Ciao a tutti e ben ritrovati. In questo breve video tutorial voglio mostrarvi come rendere visibile a Windows 10 l'unità disco SSD Kingston A400 e l'ho acquistata poco tempo fa su Amazon. Il problema iniziale che ho riscontrato, pensando appunto che fosse difettoso il disco, era quello che appunto all'avvio di Windows 10 non lo riuscivo a vedere dal sistema operativo. La cosa infatti mi è sembrata molto strana. Dopodiché sono andato nel BIOS, ho abilitato gli accessi SATA e però nonostante questo Windows 10 non riusciva ancora a vederlo. La cosa comportante era quella che appunto riuscivo a vederlo, quindi il sistema, il sistema, il computer riusciva a riconoscerlo perché all'avvio della schermata American Megatrends, la classica tradizionale appunto della motherboard, si vedeva appunto il riconoscimento del disco SSD, quindi Kingston. Fatto questo ho avviato appunto il sistema operativo di nuovo e per renderlo riconoscibile e poi dopo formattarlo ho eseguito appunto queste procedure. Allora innanzitutto con il tasto Windows e il tasto R appunto ho attivato il menu per l'utility esegui. Quindi praticamente da lì ho potuto accedere all'opzione per entrare nel menu stesso. Dopodiché ho digitato appunto disk management.msc e il che appunto mi ha aperto l'utility vera e propria che è questa. Quindi praticamente con questa utility e la gestione disco del sistema operativo Windows mi faceva vedere effettivamente l'SSD. Adesso io l'ho già formattato. Però appunto qui dice mi dava integro ma mi dava appunto partizione non rilevata, quindi non allocata. Una volta fatto questo quindi si digita con il tasto destro, cioè appunto il comando formatta e con questo appunto ho eseguito la formattazione. Adesso io non faccio niente perché appunto l'ho già formattato e poi sto installando al programma. Una volta fatto questo il Windows appunto me l'ha riconosciuto tranquillamente senza nessun problema. Bene con questo è tutto, breve tutorial. Spero che possa essere utile a chi può riscontrare un problema sul fatto di installare una SSD nuova e non riuscirla a vedere da Windows. Un saluto a tutti, spero che questo breve tutorial sia stato utile. Ciao a tutti!